Buongiorno a tutti ragazzi, sono il vostro amico Udi, vi parlo qua, la casa del grande gioco, è successa una cosa, guardate, come dire, a sinistra, a sinistra, per il porco di quel porco, non dici, sono stato da parrucchiero, stranamente non sono stato da un maraviglioso fermo, bottega l'Italia, po' della rigida, altra cosa meravigliosa, niente, sono stato in un altro porco, adesso non vi ho con noi, e sono stato lì, io sto pagando, ho voglia di profondare, anch'io nella vita, una volta i capelli un po' lunghi, sono entrato, chissavo le speranze, chissavo le sogno nel cassetto, niente, ho chiesto alle station, no alle station, sì alle station, di partarmi, perché avevo quel leggero ricciolino, una piastra mortale da portare i capelli un po' lisci, porco di dici, quando mi sono stato a specchiarmi, mi sono stato a fare una cosa, mi ha preso un brivido porco, di quel porco, di un porco, dici, è proprio un brivido, una cosa assorbita, e questi sono i rischi che si corrono a fare la piastra, senza neanche fare la prova, ma con un pochino, qualcosa, che ti possa far capire l'oscenità del risultato finale, porco di dici, sinceramente, è un pochino di facile, non so, un pochino, però porco di dici, vado a fare il trance, in questa maniera, pochino, non so, nella casa del Gran Toccello, Rudy, e i rischi delle station, ciao, un bacio, mi sembrava un manto lo stesso, che perlomeno mi è stato vicino al cuore.